Gentili telespettatori, buona giornata. E così in prima pagina sulla Repubblica c'era scritto proprio questa mattina, sì alla tassa sulle banche, una bugia in formato gigantografia in prima pagina. Ma allora non c'è una tassa sulle banche? No. L'intesa di massima con il governo alla fine si traduce in un sostegno dal sistema bancario assicurativo sotto forma di liquidità, senza prelievi fiscali o impatto sul patrimonio. E allora che cos'è? Danno dei soldi e non è una tassa? Di cosa si tratta? L'accordo tecnico tra governo e banche sul contributo alla manovra di bilancio è sostanzialmente chiuso. Ieri mattina c'è stato un contatto tra il Ministero del Tesoro e il direttore generale di Asso Bancaria, Marco Elio Rottigni, e si è arrivati ad un'intesa di massima. Banche e assicurazioni. Il contributo arriverebbe sotto forma di soldi, 3,5 miliardi nei prossimi due anni, senza prelievi fiscali o riflessi sul patrimonio. Per due anni, in base agli accordi presi con le banche, verrebbero congelati i crediti d'imposta relativi alle tasse da pagare in futuro, su fusioni e svalutazioni di crediti. Nel pacchetto c'è anche la stretta sulle stock option dei grandi manager, estese a tutte le società. L'intesa sulla carta ci sarebbe, ma i banchieri sono prudenti e nel sardo pomeriggio usano ancora il condizionale. Quindi 3-4 miliardi nei prossimi due anni, senza prelievi fiscali o riflessi sul patrimonio. Per due anni, in base agli accordi, verrebbero congelati i crediti d'imposta delle banche relativi alle tasse da pagare in futuro, su fusioni e svalutazioni di credito. Stretta sulle stock option dei grandi manager, estesa a tutte le società, che offrono azioni a prezzi scontati ai loro dirigenti. L'intesa sulla carta c'è, ma i banchieri sono prudenti. È una partita di giro, è un anticipo delle tasse. Avete capito che cos'è? È un anticipo delle tasse. Nel 2023 era riuscita male con la tassa sugli extra profitti, che poi alla fine era una tassa che tu potevi pagare oppure quei soldi li mettevi a capitale. Tutti i soldi delle banche sono finiti a capitale. Significa che nessuna banca ha dato un solo centesimo allo Stato. Tutti hanno preferito, al posto che pagare le tasse, mettere quei soldi a capitale. Stavolta si è ripartiti dal contributo temporaneo e dal confronto, ma è arrivati al punto di stringere. Riemergono le tensioni. Ieri la Meloni dice che si potrebbe scoprire che questo governo ha più coraggio della sinistra, con il Movimento 5 Stelle che accusa di codardia per la prudenza sulla tassazione delle banche e chiede di mettere nel mirino anche le industrie della difesa. E AVS è pronta a votare ogni imposizione sugli extra profitti. Arriva Salvini che dice bene l'intervento sulle banche, come ha sempre auspicato la Lega. Tajani dice non ci saranno tasse sugli extra profitti. Quindi Tajani vuole specificare che non ci sono tasse perché vuole rassicurare i Berlusconi che hanno una banca e hanno assicurazioni. Quindi Tajani ci tiene a specificare che non c'è nessuna tassa, anche perché lui non l'avrebbe permessa la tassa. Proprio perché è agli ordini di una famiglia di imprenditori che paga i debiti di Forza Italia. Mi sembra anche normale, ovviamente. Naturalmente Tajani continua a fare muro contro l'intervento da autorità sulle banche. Dice noi ci saranno tasse sugli extra profitti, siamo contrari ad aumentare tasse e a mettere nuove tasse. E poi dice l'accordo con le banche è un segnale positivo per i mercati, sapendo che anche in Parlamento poi dovrà avere dei problemi. tassi. Alla fine è un anticipo che le banche fanno, cioè le banche anticipano le tasse, questa storia dei crediti eccetera eccetera. Quindi c'è una parte che è un anticipo delle tasse e da un'altra parte vengono congelati i crediti d'imposta. Quindi le banche danno dei soldi come anticipo sulle tasse e il governo dice congelo i crediti così tu mi dai di più perché ti congelo i crediti e poi questi crediti te li scongelo dopo, questi soldi te li do dopo. Alla fine da quello che abbiamo capito tutti, sì le banche anticipano questi soldi però poi questi soldi andranno ridati fra due anni. Come ridai questi soldi? Ecco insomma è come dire all'azienda mi anticipi uno stipendio perché ho una spesa e l'azienda ti dice va bene ti do lo stipendio del prossimo mese e te lo do con questo, te lo anticipo. Però tu poi il prossimo mese non hai stipendio. Come mangi? Dici poi ci penso, intanto ho l'anticipo, questo è il punto. Io intanto prendo i soldi dell'anticipo e dopo? Quando questi soldi li devo ridare? O me li chiedono? O si arriva al dunque? Da dove li prendo? Quello ci pensiamo dopo. E insomma diciamo che per il momento ci sono questi soldi in più che verranno messi sulla sanità, è viva, però poi le banche non hanno regalato, non stanno regalando 4 miliardi, non c'è una tassazione in più sulle banche di 4 miliardi, sono soldi anticipati in qualche modo. Va bene, sta di fatto che la Repubblica sia la tassa sulle banche, quel sia la tassa sulle banche scritto gigante nella prima pagina di oggi, è una bufala. Caspiterina, un giornale di livello nazionale che le scrive così grosse? Insomma mi chiedo anche il lettore di Repubblica, ma il lettore di Repubblica quando legge sia le tasse sulle banche e poi si accorge che non è vero, ma poi continua a comprare un giornale che ti racconta la storia di Babbo Natale? A che serve raccontare le frottole? Ma non capisco il fine ultimo di raccontare delle bugie così, io credo che il lettore di Repubblica si stia allontanando, cioè davvero voi comprate un giornale e spendete soldi per farvi sentire raccontare la storia di Babbo Natale? Bah, arrivederci a tutti e grazie.